Un abbraccio commosso, in cella, tra mamma e figlio, poi il rinnovato sostegno, in verità mai venuto meno. Nessuno della famiglia spiega, la madre ha mai dubitato che si sia trattato di un tragico e maledetto incidente. Ieri nel carcere minorile Santa Bona di Treviso, il primo incontro tra madre e figlio dopo il fermo e l'applicazione della misura cautelare più pesante decisa dal GIP Valeria Zancan nei confronti del sedicenne che venerdì scorso ha sparato e ucciso il papà Enrico Bogian, imprenditore 52enne di Selvazzano. La famiglia rimane unita, solidale, sostiene la versione del ragazzino che, prima di fronte ai carabinieri, poi davanti al giudice, ha continuato a ripetere «volevo solo fare uno scherzo a papà, fargli sentire il click, fargli paura». A breve la procura minorile nominerà un esperto per la consulenza balistica. Appare scontata pure una consulenza psichiatrica, peraltro già sollecitata dal difensore del ragazzo. Intanto l'indagine prosegue. Dopo il sopralluogo di martedì del PM dei minori Monica Mazza, la villetta di Selvazzano, dove si è consumata la tragedia, è stata dissequestrata.